buon pomeriggio mosini ha ufficialmente dichiarato l'inizio dell'autunno perché è andato nel tiragraffi peloso fuori piove lui è nel tiragraffi peloso beh almeno so dove trovarti mosini amore abbiamo mangiato bevuto facciamo le fusa diamo i baci alla mamma quindi noi stiamo bene quando siamo così fusanti e bacianti vuol dire che stiamo molto bene e sbavigliati ecco il solito mosini vedete è lui che fa le sue mani in casa son contenta su orecchio da bullo e qui da gang del quartiere vede a parte appartiene una baby gang mosini la baby gang dei gatti neri del centro del centro storico e mosini ciao